Francisco Franco, nato il 4 dicembre 1892 a Elferrol, in Galizia, e morto il 20 novembre 1975 a Madrid, è stato un generale e politico spagnolo. La sua figura è strettamente legata al periodo turbolento della guerra civile spagnola e al regime dittatoriale, noto come franchismo, che ha governato la Spagna per quasi quattro decenni. Ecco alcuni punti chiave sulla vita e la carriera di Francisco Franco, origini e carriera militare. Franco è nato a Elferrol, una città portuale nel nord-ovest della Spagna. Ha frequentato l'Accademia di Fanteria di Toledo e ha iniziato la sua carriera militare nel 1907. Durante la guerra del Rif, 1920-1926, in Marocco, Franco ha guadagnato notorietà come comandante militare. Guerra civile spagnola, nel 1936, la Spagna fu scossa dalla guerra civile tra le forze repubblicane e quelle nazionaliste. Franco guidò le forze nazionaliste, sostenute da nazi Germania e Italia fascista, contro il governo democraticamente eletto della Seconda Repubblica Spagnola. Nel 1939, le forze di Franco vinsero la guerra civile, e lui divenne il caudillo de Spagna, capo di Stato, e il generalismo dello Segercitos, comandante supremo delle forze armate. Il regime franchista, Franco instaurò un regime dittatoriale che durò fino alla sua morte nel 1975. La sua leadership fu caratterizzata da repressione politica, censura, limitazione delle libertà civili e controllo autoritario. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Spagna rimase neutrale, nonostante le pressioni di Hitler e Mussolini per schierarsi con l'asse. La morte e l'ascito, Franco morì nel 1975 a Madrid a causa di uno shock settico. Il suo corpo fu inizialmente sepolto nel Valle de los Caídos, un monumento controverso costruito durante il suo regime. Nel 2019, il governo spagnolo ha esumato i suoi resti e li ha trasferiti al cimitero di Mingo Rubio e il Pardo. N sintesi, Francisco Franco è stato una figura complessa e controversa nella storia spagnola. Il suo regime ha lasciato un impatto duraturo sul paese e la sua eredità è ancora oggetto di dibattito e discussioni. Gli aspetti più controversi del regime di Francisco Franco sono stati oggetto di dibattito e riflessione per molti anni. Ecco alcuni dei punti chiave. Repressione politica. Durante il suo governo, Franco rese illegale qualsiasi forma di opposizione politica. I dissidenti, i comunitari, i comunitari, e gli indipendentisti furono perseguitati, imprigionati o addirittura giustiziati. Questa repressione politica ha lasciato un segno indelebile sulla società spagnola. Nazionalismo spagnolo. Franco promosse un forte nazionalismo spagnolo, cercando di unificare il paese sotto una visione omogenea e conservatrice. Questo ha portato a una negazione delle identità regionali e culturali, soprattutto in regioni come la Catalogna e il paese basco. Economia e isolamento internazionale. Durante il franchismo, l'economia spagnola fu caratterizzata da un modello autarchico e protezionista. La Spagna fu isolata dal resto dell'Europa occidentale e persino dagli Stati Uniti. Questo ha avuto conseguenze negative sullo sviluppo economico e sociale del paese. Censura e controllo dei media. Il regime di Franco impose una rigorosa censura sui media e controllò strettamente le informazioni che venivano diffuse. Questo ha limitato la libertà di stampa e di espressione. Memoria storica. Dopo la morte di Franco, la Spagna ha affrontato il dilemma di come affrontare il suo passato. La cosiddetta legge della memoria storica è che cerca di far luce sugli abusi commessi durante il franchismo e di rendere omaggio alle vittime. In sintesi, il regime di Franco è stato caratterizzato da autoritarismo, repressione politica, nazionalismo e isolamento internazionale. La sua eredità è ancora oggetto di discussione e riflessione nella Spagna contemporanea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.